Foto di gruppo per la rete dei comitati lucchesi per il diritto alla salute. Sono i promotori della raccolta di firme che sta mettendo paura alla regione, quella con cui si chiede un referendum per stoppare la legge 28 sulla sanità che dispone l'accorpamento delle Asle. L'idea del referendum è partita da Lucca, dal compianto Raffaello Papeschi, è stato ricordato nel corso della conferenza stampa organizzata all'Hotel Guinigi. In 20 giorni sono state raccolte 56.000 firme, superando di gran lunga il quorum necessario di 38.000 firme. Adesso però la regione vuole evitare il referendum con un artificio formale, abrogando la legge oggetto del referendum e trasferendo le disposizioni su un'altra legge, che verrebbe approvata il prossimo 15 dicembre. I comitati la definiscono una truffa antidemocratica e denunciano ancora una volta alla sistematica distruzione del servizio sanitario regionale a vantaggio della sanità privata. In particolare, secondo i comitati, il cittadino viene ormai escluso da qualsiasi possibilità di partecipazione ai processi decisionali. Per questo la rete lucchese ha deciso di creare una serie di contatti diretti per far raccontare ai cittadini le loro esperienze con i servizi sanitari. Il numero di telefono 334 58 13 545, la mail fierucola-iau.fr e la pagina Facebook Luca per una sanità migliore. Tutti i cittadini che hanno delle esperienze da raccontare, delle testimonianze rispetto alla loro permanenza all'ospedale o al mancato accesso di alcuni servizi, si possono rivolgere a questi indirizzi, perché vogliamo rimettere il cittadino al centro della salute, non un numero come ora, ma una persona che venga accolta in tutti i suoi aspetti. I comitati hanno inoltre sottolineato ancora la mancanza dei posti letto promessi al San Luca e per le cure intermedie e i tempi di attesa troppo lunghi per gli esami diagnostici per i quali a volte le liste di attesa vengono bloccate ed hanno annunciato un presidio di protesta a Firenze nel giorno fissato per l'approvazione della legge antireferendum.